Buongiorno a tutti. Vorrei prima di tutto ringraziare il professor Marcello Ciccuto, presidente della SDI, per l'invito a tenere questa lettura a tema libero, che ha il titolo di Scambi e corpi, immagini della confusione tra i sessi nella commedia. Una lettura libera che nasce da un'occasione precisa, perché prendendo in mano la recente edizione del romanzo Tiresia, che il filosofo Mario Perniola aveva scritto nel 1968 come una sorta di contrapasso al suo primo libro di estetica letteraria, il metaromanzo del 1966, mi vennero subito in mente i sei versi, 40-45, che Dante nel ventesimo canto dell'inferno aveva dedicato all'indovino cieco, e che ora leggo, consapevole di non poter ridare tono alla voce di Virgilio che ti pronunciò. Mira a caffatto petto delle spalle, perché volle veder troppo davanti, dietro guarda e fa retroso cami. Vedi Tiresia che mutò sembiante, quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante, e prima poi ribatterli convenne i due serpenti avvolti, con la verga che riavesse le maschili penne. Il ripescaggio dantesco non si discosta dai vari racconti antichi e medievali che ne trassero l'ambigua fama, ma concentrandosi esclusivamente sul magico cambio di sesso omette una parte importante della leggenda di Tiresia, almeno di quella tramandata da Esiodo o da un suo pseudo, che si compone sì di questo atto imprudente di molestare serpenti, ma anche di una resa dei conti che ne sigilla il destino con la cecità e la veggenza. Riprese sembianze corpio maschili, Tiresia svela, ma solo perché provocato e costretto da forze superiori, i segreti del piacere sessuale femminile e in particolare il piacere della donna, svela che il piacere della donna è molto più grande che nel uomo. Allora Era, per Ira, gli toglie la vista e Zeus, per pietà o per far dispetto alla sua consorte, gli dona, e si fa per dire, la chiaroveggenza. Visione in cambio di cecità, ma è già uno sguardo distorto, inumano, ugualmente deviante dall'avere a vista di cui è stato privato e addirittura, come è il caso, ugualmente condannabile. Ora si potrebbe, anzi si dovrebbe supporre che l'omissione di quel tratto di racconto che spiega perché Tiresia si sia trovato nella condizione di sfidare i poteri divini, si debba a una certa sua obvietà, cioè a una certa facilità con cui il lettore avrebbe potuto richiamare a sé la leggenda nella sua interezza. Ma non può non stupire che quel complesso rapporto tra il vedere oltre allo sguardo naturale e la condizione di cecità non sia stato minimamente affrontato da Dante. Assenza tanto più stupefacente, visto che proprio questa ingannevole virtù a giustificare la presenza di Tiresia ha un torto collo tra i fragolenti indovini. Certo tutto il contesto del girone avrebbe reso difficile a creare una sorta di cortocircuito, sbrogliare quel racconto antico che tra l'altro va in direzione opposta alla figura eletta a contrapasso per gli indovini e che però già contiene integralmente, pur del dispettoso modo di agire degli dèi, il contrasto tra vista umana e vista divina. Sta di fatto che di quella narrazione antica e medievale nella commedia non rimane che l'antefatto, che possiamo non considerare antefatto solo se non pensiamo che l'avere sperimentato entrambi i sessi sia già di per sé, per gli antichi come per Dante, un rivolgimento dell'ordine naturale, da cui il destino di ogni corpo e di ogni anima sarebbe segnato, cioè di essere uomo o donna in maniera definitiva una volta per tutte. Tiresia quindi andrebbe incontro al suo destino di contraddittoria visionarietà perché è già profanatore di un confine, naturalmente invalicabile. Tiresia non è mai contemporaneamente donna e uomo, tiresia conserva memoria e sensazione dell'una e dell'altra esperienza. Per la scienza oggi sarebbe un caso di ermafroditismo sequenziale del tipo alternante, caratteristica abbastanza diffusa tra i pesci e i mutili. Chiedersi insomma se Dante semplicemente fosse affascinato da quella figura della confusione sessuale oppure volesse far ravvedere in quella figura la causa della punizione di Tiresia o della confusione di per sé, è tanto lecito quanto plausibile che non si possa dare una risposta. E non vorrei più impostare la questione per dar sfogo alle tante domande che assillano l'etica dantesca, soprattutto a proposito delle inclinazioni sessuali. Per ora mi interessa, ma anche nel seguito, questa immagine, così escludente e totalizzante, con cui Dante restituisce il personaggio Tiresia. Torniamo quindi a rileggere quei versi, bellissimi nella loro concisione, che sembra si possano dividere in due tratti. La prima terzina attua un contrasto tra l'apparire e l'essere. Tiresia non muta solo se indiante, cioè non si trucca né si traveste, bensì trasforma tutto il suo corpo da uomo in donna. Un cambiamento radicale, ma reversibile, al cui centro, come causa efficiente, c'è il tocco del grodillo di serpenti, che incautamente Tiresia va a disturbare con un bastone, molestando senza motivo due animali che si stanno accoppiando. La catena narrativa è sorprendentemente disgiunta, solo unita da quel prima e poi, che fa intendere la reiterazione del gesto, che potremmo chiamare convertitore. Non credo neppure sia da interrogare questa figura, perché mai toccare i serpenti aggrovigliati provocherebbe il cambiamento del sesso, che rimane abbastanza misteriosa, suscitando qualche possibile congettura. A guardar bene l'immagine rappresenta una materia reagente, tra il groviglio di serpenti e il gesto, che sembra volerlo sciogliere. Certo, detta così, congetture sul significato emergono come spontanee. Sarà il segreto della sessualità, che vuole essere sacralizzato, oppure il comando di non separare quel che è mito. Probabilmente quei due serpenti sono solo un altro modo per dire Atena, che nell'altra versione del mito, di cui ci informa anche Apollo d'Oro nella biblioteca, acceca Tiresia per averla vista nuda. Obiettivamente sono tutte congetture sulle quali sarei il primo a nutrire dubbi di legittimità. Resta il fatto che Dante si diverte a rievocare solo la parte del mito di Tiresia che riguarda il cambiamento di sesso e la molestia sui serpenti. Ed è con questa immagine doppia che mi incamminere. Prima di entrare in questo cammino, che è caratterizzato dall'immagine del groviglio, del rischio di provare a scioglierlo o solo di stuzzicarlo, e dell'inversione dell'identità sessuale, vorrei prendere un bricelo di distanza dall'episodio e anticipare la mappa della mia lettura libera. Il tema del sesso e della sessualità in Dante è stato veramente affrontato dalla critica, entro la cui lettura è possibile anche muoversi per utili schemi. Da una parte c'è stata una meritata attenzione per il trascinamento della pulsione sessuale verso la condizione di amore, movimento presente sin dalla vita nuova, già nel sviluppo narrativo tra sentire e poetare, già nei cilpugli dell'attrazione sessuale e del desiderio di trascendere. È costantemente trasvalutato, anche all'interno della commedia, nel consueto moto ascensionale. Ed è amore eterosessuale, sempre, che sia straziante, accecante, piccato, pietroso, asceso. Un diverso trattamento critico, certo dovuto anche a una certa complessiva marginalità dell'argomento nell'economia generale e dell'opera dantesca, hanno goduto quelle forme di sessualità che in qualche modo pongono l'ascostamento di sesso e affetto con una confusione corporea e mentale, un errore di natura e infine un peccato. Ed è naturalmente su questi aspetti secondi dell'amore che orienterò la lettura. Oltre al caso di Tiresia, chiamato in un contesto in cui la questione sessuale è solo evocata, tanto che non sarebbe neanche troppo superficiale pensare che nel ricordo tantesco Tiresia affiora perché è collegato alla successiva rievocazione di Manto, sua figlia, e anche alla lunga digressione sulla fondazione della città natale di Virgilio, che avrebbe certo maggior rilevanza anche rispetto alle dicerie correnti nel Medioevo su Virgilio Mago. Oltre al caso di Tiresia, dicevo, i più noti canti nei quali Dante tratta la questione degli amori innaturali sono i canti quindicesimo e sedicesimo dell'Inferno dove incontra i Sodomiti e i canti venticinquesimo e ventiseiesimo del Purgatorio dove incontra Sodomiti e Ermafroditi. La critica si è posta soprattutto, anche se non sempre, il problema di giustificare queste presenze, ben superando anche lo stupore di trovare espressa senza mezzi termini la viva contraddizione per cui Dante in un solo gesto esalta e punisce i personaggi che incontra. Per Brunetto Latini, i tre politici fiorentini, Guerra, Aldo Brandi, Ospicucci e più super, Dionizelli e Daniel, da una parte mostra un affetto incondizionato, uno è riconosciuto come maestro, di tre ne enfatizza la stima per la probità civile, di un altro si dichiara servitore e con grande intensità manifesta per loro una vera attrazione, una attrazione fisica perché si muove sempre verso di loro per abbracciarli benché sia fermato dal fuoco. Dall'altra le svela e viola l'intimità, forse ne mina la reputazione eternandone un errore secolare. Si è discusso se questo atteggiamento di Dante che da una parte condanne dall'altra assolve fosse un segno di non curanza per questo genere di peccati, se i peccati di lussuria nel suo sistema delle punizioni fossero meno gravi di altri, se Dante fosse tollerante o almeno non particolarmente indignato per l'omosessualità, se giudicasse certe inclinazioni sessuali, personali, assolutamente ininfluenti rispetto all'etica sociale o civile o magari rispetto al dolore poetico dei personaggi che in questi canti le incarnano, si è pure discusso, già Boccaccio faceva allusione, se non fosse una velata confessione di aver lui stesso fatto quelle esperienze eccessive o contro natura e si è anche insegnato se non fosse una specie di pietà pelosa con cui Dante si sbarazza, encomiando e infamando insieme di alcuni predecessori politici eletterati. E naturalmente si è anche cercato di dare significati più traslati a queste apparizioni, ora imputando la condanna dantesca a una supposta e intrinseca violenza ravveduta in quegli atti sessuali, ora indicando nella sterilità di quei rapporti sessuali un significato figurale, cioè un modo per sottolineare quanto giudicasse per denti certe pur ammirevoli azioni, questioni che non facili da liquidare e molto motivate, però credo sia il momento di concentrarsi su questa immagine, sulla nostra immagine, l'immagine del groviglio e anche del gesto che il groviglio scioglie o cerca di sciogliere. Ripartiamo così dal sedicesimo dell'Inferno in cui Dante si trova davanti un terzetto di Fiorentini davvero curioso. Sono Guerra, Aldobrandi, Rusticucci, tre rappresentanti politici dell'ultima stagione Guelfa, prima della parentesi Ghibellina, tre perdenti potremmo dire, ma potremmo usare anche un altro termine assai meno raffinato, che non a caso sono tra i violenti contro Natura e Sodomini. Ricordiamo che per fermarsi a parlare con Dante i tre sono costretti a fare una comica danza, non possono fermarsi, dato che la loro condanna è di essere in perpetua corsa e quindi si tengono per le spalle formando un cerchio, sottospesacciando il terreno e sopra torcendo costantemente la testa, testa e collo, per tenere lo sguardo su Dante, in particolare Jacopo Rusticucci che parla per tutti. La girandola che stranamente nelle miniature dei codici più antichi non viene figurata come tale, i tre dannati rimangono in piedi, certo nudi ma non troppo brolli, separati e solo si coprono i genitali con la mano. Questa girandola non può non ricordare anche solo allusivamente la giostra, cioè il gioco del sesso e a questo proposito vorrei segnalare proprio per inciso che di recente un antropologo Giovanni Pizza, riprendendo certe pagine di Antonio Gramsci dai quaderni in cui si faceva riferimento alla giostra dantesca, l'ha legata alla questione del dire e nominare di genere, cosa molto interessante. Ma non la giostra, bensì un'altra similitudine, sebbene sempre di cose da festa in fondo si tratta, è incorporata, quest'altra similitudine, in ciò che Dante vede, quella dei lottatori. Fenno una rota di sé tutti e tre, qual soglioni i campion, farnudi e unti, avvisando l'or presa e l'or vantaggio, prima che sian tra l'or battuti e punti, e si rotando ciascuno il visaggio, drizzava me, sì che tra loro il collo faceva e i pie continuo viaggio. La ripetizione di l'or in diverse funzioni grammaticali del pronome, come a sottolineare la reciprocità chiusa degli atti dei tre fiorentini, è quasi a indicarne una necessaria ma repellente simbiosi comica e anche l'iperbato, tra i versi 26 e 27, una figura che costringe il lettore a sciogliere ciò che è legato, intensificano efficacemente l'immagine del biluppo, del groviglio umano, non statico ma giostrante e comicamente danzante, in questo caso. Va anche osservato che Dante ripetutamente dirige il nostro sguardo verso il movimento degli arti inferiori, quasi a costruire una continuità drammatica dell'incontro. Ai versi 32 e 33, chi tu sai che invidi i piedi così sicuro per l'inferno freghi, al 34 questi l'orme di cui pestarmi vedi e al successivo quarantesimo l'altro che ha presso me l'arena trita. C'è da farsi venire un leggero almeno capogiro a seguire questo movimento del viscico, che crea un vortice a cui resistono a lasciarsi andare, come confermano, come in effetti Dante farebbe se la buona voglia non fosse inibita dal fuoco. Ai versi 47 e poi 51, gittato mi sarei tra lor, ripetizione del pronome, di sotto e poi che di loro abbracciarmi faceva agghiotto. Potremmo insomma dire che Dante è tentato a buttarsi nella lotta, però non è disposto a giocare col fuoco e in fondo sta imparando a non scottarsi. In una elegante e intensa lettura di questo canto, che poneva in risalto la magnificenza delle quattro similitudini che legano il sedicesimo, cioè il rombo delle api, l'appiccicarsi dei corpi dei lottatori, la cascata, il corso del fiume che cambia nome e quella finale del nuotatore che risale dal fondo nello stile che oggi diremmo rana, Don Franco Caretti aveva indicato con molta precisione che l'unità del canto non è data dalla centralità dell'incontro con i fiorentini e neanche qui da quel grido indignato che Dante, pure davvero in una posizione davvero potente, essendo l'unico momento in cui questo fragore del saggetonte viene spezzato, ma che ottenuta scriveva per via opposta, privilegiando l'unità di racconto poetico, l'unità tonale e stilistica, solidale convivenza, perfusione, intreccio ineccepibili di elementi realistici e elementi fantastici. Non mi avventuro ora, anche se lo meriterebbe nel capire a fondo perché Caretti sembrasse così indispensabile, rivisitare la poetica dantesca alla luce di un programmatico accostamento delle immagini infernali e quindi fantastiche alle immagini più comuni e familiari, se non per il fatto che le similitudini indicano l'ignoto attraverso il moto. Tuttavia mi sentirei di rivalutare e approfondire il fatto che proprio nell'intreccio e nel suo scioglimento Caretti ritrovasse un'immagine profondamente attiva in tutto il campo. Dava tanta importanza a questa figura che nel misterioso atto di sciogliersi la corda portata al modi cinghia discorgeva una diretta indicazione diegetica o forse addirittura metanarrativa, cioè il passaggio da un mondo sofferente e peccaminoso, le zone infernali fin qui attraversate della lussuria e della violenza, ma nelle parole di Caretti descritte come solidamente costruito questo mondo chiaro e palese, a un mondo fatto, continuava, dalle sabbie mobili del dubbio e della maestificazione, cioè le zone infernali della frode, dell'inganno e del tradimento. Scriveva acutamente il getto della corda è chiaramente bifronte e rivolto all'indietro in quanto suggella la vecchia pagina che sfoglia e ripiega e guarda innanzi verso la pagina inedita provocando e suscitando la prima immagine dei nuovi cerchi. Proprio perché ciò che conta in questo gesto è la sua continuità con la giostralotta dei preferentini, cioè il divergere delle direzioni di testa e piedi nel loro abbraccio che allude alla divergenza e alla faticosa rinunificazione di sguardo e meta, proprio come o sarà nella testa capovolta degli indovini, nell'accogliere questo suggerimento sarei più proponso a mettere in fila questa serie di immagini di groviglio come volontà di creare una sensazione isomorfica che spingerebbe a interpretare la serie di incontri come l'accentuarsi di qualcosa di incredibile, di tenebrosamente fantastico, con un movimento che, quando questo isomorfismo occupi il campo visivo ma anche immaginativo in maniera piuttosto stabile, porti dal comune al fantastico. Si spiegherebbe anche meglio, almeno mi pare, quella lunga e splendida invocazione al lettore dei versi 124 e seguenti, che tra scuse e ambissioni di colpa, tra giuramenti e reticenze, tra timore e speranza, introduce l'apparire dell'ancora non nominato né visto nella sua terrificante chiarezza, mostro Gerione. Sempre a quel verca faccia di menzogna dell'uomo chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna, ma qui tacerno il posso e per le note di questa comedia le torti giuro se le non sien di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venire notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, siccome torna colui che va giuso, talora assolver l'ancora che aggrappa o scoglio altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Chiuso il canto possiamo ora ripercorrere a ritroso le immagini di questi intrecci, di questi gesti del legare e dello sciogliere. Quindi ai versi 136-134 abbiamo un marinaio che il suo si stende e da pie si rattrappa, dopo aver provveduto a solvere l'ancora che aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, siccome torna colui che va giuso. Poi al 121 avrà visto Virgilio che rassicura Dante che tosto, ma tosto verrà di sovra l'immagine che entrambi attendono o sognano, Beatrice ma invece nel frattempo arriva Gerione. Dopo aver gettato la corda, giuso, in quell'alto burrato al verso 114, Dante che porge la corda al verso 111 a Virgilio, dopo averla da sé al verso 109 sciolta, e così anche la digressione geografica del fiume che troviamo tra i versi 97-102 segue nella descrizione questo ritmo di inversione nelle espressioni. Su uso avanti che divalli, rimbomba là sovra San Benedetto per cadere in un'ascesa, e prima gli abbracci repressi di cui abbiamo già detto, e ancor prima i piedi che calcano lo stesso terreno e si sovrappongono, la testa dei fiorentini che torcono il collo in direzione opposta al cammino dei piedi, e infine si arriva o si torna, ormai la direzione giusta, chi ne è più certo, all'immagine dei lottatori che si stringono reciprocamente e si abbracciano prima di darsi le botte. Non vorrei con questa serie attribuire insomma a questa serie un particolare significato, siamo solo a metà di un cammino che è molto lungo e insomma anche altrettanto insidioso. Però ora mi sarebbe sufficiente notare, anzi ripilogare, qualche similitudine tra l'episodio di Tiresia da cui siamo partiti con le immagini di questa seconda tappa. Davanti a figure portatrici di una qualche confusione o disordine sessuale, l'immaginazione dantesca preleva, oppure anche nell'immaginazione dantesca prevale, un'immagine simile, che mi sentirei di chiamare immagine del mistero dell'intreccio. Tiresia molesta i serpenti avvinghiati e si cambia di corpo tutto quanto. Dante parla con fiorentini violenti e sodomiti, tra di loro avvinghiati. Non è un caso che questa figura sia legata a qualcosa che ha a fare col sesso, perché naturalmente la figura dell'intreccio comporta, anzi forse sostiene, un'altra nozione, o meglio un luogo poetico che è fondamentale, cioè il corpo. Per raccontare i suicidi, nel tredicesimo, Dante aveva fatto ricorso alla medesima figura dell'intreccio, questa volta tra bronchi e corpi. Una constatazione che potrebbe anche suonare come obiezione al fatto che il groviglio, la sua immagine, si accenda solo in un orizzonte sessuale e dovesse presentarsi questa obiezione la renderebbe buona. Tanto più che in questo canto non è del tutto estraneo quell'insieme di rimandi figurali e elesticali presenti negli episodi che abbiamo già richiamato. Mentre il sesso, nell'incontro con i suicidi e gli scialacquatori, sembra entrarci poco. Ma andiamo avanti, ed ecco i passi più rilevanti. Al verso quinto del tredicesimo, appunto, non ramischietti, ma nodosi e involti, così descrive la selva presidiata dalle erpie. Poi la bella terzina in rima dei versi 35, 37 e 39 che dice «Scerpi, sterpi e serpi», con cui la voce ancora misteriosa chiede pietà a Dante che ne sta stuzzicando il corpo stecco e manco fosse uno schifoso rettile, no? Si lamenta, perde la vigna. E anche una successiva rima ripete l'immagine della stretta, questa volta alludendo alle pratiche di avvingiamento che il parlare produce nella conversazione. E versi 55 e 57 è il tronco. «Sì, col dolce dir, ma deschi, chi non posso tacere, e voi non gravi, perché io ho un poco a ragionare, mi investi». E subito dopo il volsi, serrando e disserrando, al 59 e 60, con cui finalmente perde la vigna, fa metafora del potere che aveva saputo esercitare su Federico. E ancora il motivo dell'inversione qui, un motivo ricorrente, anzi incoronato nelle parole di Pier della Vigna, nella terzina ai versi 70-72, che tocca con precisione il punto nevralgico del canto, dare una spiegazione della colpa al suicidio come errore, sbaglio, cattiva valutazione delle conseguenze, inversione della causa con l'effetto, equivoci di significati, a sottolinearlo c'è anche un'antanaclasi, cioè disdegno che è sdoppiato tra lo schifo e il disonore. Tutto ciò comporta la perdita di ogni definizione morale. Per dirla con le parole di Leo Spitzer, impressionato dal tono aspro delle rime, di queste rime, le scelte di usare artifici retorici e soprattutto la volontà di creare un disperato e folto groviglio verbale, vogliono rendere, ecco le parole di Spitzer, linguisticamente, onomatopeicamente, le idee di tortura, di scissione, di sdoppiamento che dominano il canto. Sarà la suggestione della fonte letteraria su cui Dante s'appoggia, cioè le metaforfosi ovidiane, ma certo la precisione con cui ricorrono sia il cambiamento del corpo in qualcosa di totalmente diverso, sia il groviglio e l'inversione rendono particolarmente simili sotto il profilo dell'immagine e della sua resa i due episodi per Delaviglia e di Cresia. Ma forse nel canto XIII c'è qualcosa di più. A un mutudito della pietà, Dante rinuncia a chiedere, forse a paura di rimanere imbischiato, ed è Virgilio che lo asseconda, chiedendo al pruno spinoso di spiegare come l'anima si leghi a tali nocchi e semmai da essi si districchi o sgrovigli. La risposta di Pier Delaviglia è duplice. L'anima si confonderà per sempre con il legno e il corpo che il suicida ha volontariamente resecato da sé al momento del giudizio universale sarà appeso, come funesto vessillo, a ciascun prugno. L'esito del suicidio, insomma, è l'eterna espropriazione del corpo e ha come conseguenza la perenne scissione dell'identità. Le nove radici porteranno sempre l'ombra del corpo offeso, dunque per ogni anima suicida ci saranno due corpi, o un corpo in mezzo, un corpo nuovo e un corpo scisso da questo. Nella loro promessa post-apocalittica, per la fantasia di Dante, i suicidi non riacquisteranno alcuna identità. Per loro nessuna promessa di restituzione, diciamo, autobiografica. Ora è impossibile affrontare la questione dell'identità come scrittura autobiografica e come promesso continueremo a seguire un'immagine. Come finora abbiamo risalito il buco infernale, ora lo ridiscenderemo molto rapidamente per poi andare fino in Purgatorio. Il momento decisamente più parossistico in cui la fusione dei corpi, il ratto dei corpi e dell'identità raggiunge un'intensità disgustosa e horrifica è certamente il venticinquesimo canto dell'Inferno, in cui Dante assiste alle varie raccapriccianti trasformazioni dei ladri in serpenti. Un episodio che proprio in questa sede ha letto di recente Leila Livraghi, mettendo in rilievo l'ostentata consapevolezza, fosse vanità o superbia, con cui Dante reclamava la novità della sua immagine di fusione dei corpi, simultanea e reciproca di metamorfosi di coppia. Da parte mia vorrei solo riprendere e sottolineare due aspetti. Il primo è che quando il secondo ciclo di metamorfosi ha inizio, Dante per ben tre volte enfatizza la perdita di qualsiasi identità. Nel momento in cui l'orribile bestia avviticchia, vedremo tra poco quanto sia importante questo verbo, avviticchiare, avviticchia le membra del ladro, tanto più saldamente di qualsiasi edera abbarbicata un albero possa fare. Ecco i versi al 63, nell'un dell'altro gli parea quel che era, con una focalizzazione soggettiva, cioè voce del narratore, vedi già che non sei né due né uno, una bella focalizzazione allocutiva, il grido degli altri dannati, che suona anche vagamente sardonico. E poi ai versi 77 e 78, due e nessun, l'immagine perversa parea, nuovamente con una focalizzazione che torna al narratore. Il fatto che Dante accompagni la descrizione delle trasformazioni con potenti e reiterati spiegazioni di ciò che accade, al di là naturalmente di un costante richiamo d'attenzione verso una scena non facile da immaginare, non può che essere un segnale di quanto gli interessi interessasse trovare parole capaci di comunicare il senso di impotenza figurale e verbale davanti a cose che perdono la loro identità. Ma è appunto sua intenzione rendere sensibile, sensibile fisicamente la fatica, quanto cioè l'astimativa, naspi più che faticare a soccorrere, il riferimento lessicale naturalmente al paradiso 26esimo, verso 75, nel comprendere come si possa del tutto perdere non solo la propria apparenza, ma anche la propria sostanza. Il secondo aspetto che volevo mettere in risalto è la ripresa e la variazione dei miti di Carmo e Aretusa. Ancora l'idraglia ha elaborato e diparato la stretta connessione dell'immagine dantesca con il testo bibiano, sottolineando come le due narrazioni implichino un rapporto di reciprocità tra i vari personaggi mutanti. Carmo e Armonia coniugi da una parte che mutate le membre in serpenti si ritrovano e riprendono reciprocamente e dall'altra Aretusa e Alfeo congiunti per sempre, seppur violentemente ma come un giostra, in una sola fonte. In entrambi i casi la metamorfosi reciproca e simultanea ha una chiara matrice sessuale che però nel contesto dantesco non emerge perché gli interessa ora l'orribile condanna dei corpi e delle anime di non trovare mai pace in una qualche forma, quella che sia. E piace a Dante rappresentare un'eterna giostra di confusioni e dolorosi tra passi. Ma ci sono anche giostre più morbide e per concludere la nostra camminata tra le immagini di seduzione dello scandalo dei corpi, ci muoveremo nel mondo purgatoriale. Un primo passaggio da registrare è nella prima cornice del purgatorio, dove sono puniti i superbi e anche dove inizia il percorso tantesco di completo e consapevole cambiamento del sé, una specie di metanoia che allontani per sempre dal malo obiettivo. Siamo ai versi 115-139. Oltrepassati i bassorilievi che rappresentano esempi di umiltà sopraggiungono delle figure che Dante non riesce a distinguere bene. Gli appaiono e non gli appaiono persone, cosa che suscita rancura. Sono i corpi contratti dei superbi schiacciati sotto il peso del loro peccato, che pesa come un macigno. Un fardello insopportabile che ne trasfigura il corpo e il volto, sia perché sono costretti a rimanere rannicchiati, sia perché la fatica produce una smorfia che ne denuncia lo strego. Anche qui la perdita di aspetto umano è raffigurata con corpi stretti in se stessi, annodati fino a perdere ogni aspetto umano. E per ravvivare l'attenzione di Dante Virgilio lo esorta a concentrare lo sguardo e a disviticchiare al verso 118, ripete questo verbo di cui avevamo già detto, a sciogliere l'incertezza, il mistero, ora con gli occhi del corpo, ma anche con lo sguardo della mente. Disviticchia. E se la similitudine del momento che dà forma alle pose dolorose di questi uomini superbi è con le cariatidi che giungono le ginocchia al petto, la metafora angelica, che precede la visione ancora sofferente, è l'esortazione dei versi 121-129, con la quale Dante invita i superbi a non opporsi a quel passaggio che da vermi ci fa farfalle, allora quando la giusta maturazione ci ha liberati dal bozzolo setoso nel quale raggiungiamo la perfezione. E per immaginarsi ben disegnata la scena non ce n'è pure bisogno che Dante nomini il groviglio, il groviglio dei sottissimi fili da cui ogni anima si libera ed emergere per congiungersi al vero. O superbi cristian, miseri lassi, che dalla vista della mente infermi fidanza avete dei ritrosi passi, per appunto tornare nel bozzolo, non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi, senza impedimenti, false immagini, senza ricordi, tali a poco senza ricordi. Di che l'animo vostro in alto galla poi siete quasi intomata e in difetta, siccome vermo in cui formazione dalla, con questa immagine di groviglio e scioglimento molto più rapidamente di Dante e Virgilio anche noi vogliamo 15 canti più sopra lungo la montagna del Purgatorio e siamo al venticinquesimo canto. Lasciati i golosi e dopo aver ascoltato la lunga spiegazione di Stazio compresa tra i versi 34-108 di come l'anima si generi e di come conserva il suo destino anche dopo la morte Dante incontra a una svolta si può dire dietro l'angelo le anime dei lussuriosi immersi dentro una cortina di fiamme anche loro non distingue ancora bene di che si tratti ne sente le voci che alternano l'intonazione di un inno alla misericordia divina a grida di nomi e esempi di castità solo nel canto seguente quando egli stesso viene riconosciuto come corpo vivo e uno delle anime gli chiede come sia mai possibile una cosa così inconsueta si accorge che quelle anime dentro le fiamme camminano in schiera e solo perché nella direzione opposta sovraggiungerà da lì a poco un altro schiera intanto Stazio aveva approfittato del dubbio di Dante di come cioè fosse possibile che i golosi sentissero ancora i morsi dell'appetito perché fossero privi di corpi per propinargli una lunga spiegazione di come l'anima si forma ed entra e si amalgama nei corpi vivi il complicato processo è descritto come una vera collaborazione tra natura e volontà divina che perdura in eterno tanto che una volta che la parca la chiesis ha finito il lino l'anima si scioglie nella carne e ne porta a seco l'umano e il divino verso 79 non pare un caso che tale spiegazione venga data poco prima dell'incontro con quelle due processioni di anime che procedono in fine indiana e che per voce di Guinizelli saranno dette vergognose per l'aver offeso e consapevoli di aver trasgredito l'umana legge nel 26esimo ai versi 76 e 86 l'immagine culminante del processo di generazione dell'anima raccontato da Stazio si ricorderà di certo in quella di una saggia e armoniosa fusione di elementi diversi c'è un corpo infuso dalle virtù che ancora ha lo stato fetale fino al cerebro che è formato e la natura che opera viene penetrato e assimilato da una sostanza divina ciò accaduto spiegano i versi in 74-78 farsi un'alma sola che vive e sente e in sé in sé rigira guarda il calor dal sol che si fa vino giunto all'umor che dalla vite cola questi passaggi tra gli stati gassosi liquidi solidi mi mettono in allarme perché appena ha proferito le parole e se in sé rigira davvero una bella immagine di centrifugazione che per molti commentatori sarebbe la coscienza del sé dato che farà tripletta con la virtù del vivere e del sentire ma insomma lasciatemi dire che lo sprint poetico dice molto di più della dottrina in questo caso dico mi mette in allarme che a Dante per questo e se in sé rigira venga anzi torni in mente di associare questo movimento alla pianta della vite sì perché questa associazione trascina con sé immediatamente i ricordi i ricordi di rame spezzati di avviticchiamenti e di sviticchiamenti di bisce legate e slegate di corde slegate riavvolte e gettate di corpi e bisce che sono legati a forza fusi tra uomini e pruni tra serpenti e uomini tra uomini e pietre tra vermi e farfalle e anzi si potrebbe avvertire nel sopravvenire di queste immagini e anzi nell'ascendere con queste immagini come un allentarsi di tutti i nodi che imbrigliano corpi e anime mi verrebbe voglia qui di citare le parole del poeta russo Osip Mandelstam scritte quando cercava di spiegare che Dante non dice che narra la natura non dice che narra la natura ma la recita tramite quei mezzi detti comunemente immagini e continuava fare oscillare significati violare l'integrità dell'immagine è un procedimento artistico tipicamente dantesco e noi ci troviamo in questa dimensione possiamo così andare verso l'ultima giostra questa volta morbida che chiude questa lettura forse un po' più lunga del solito mentre si è appena abboccato con guinizelli sopraggiungono genti a distrarre la conversazione si tratta di un'altra schiera che procede in senso opposto e che lascia Dante sospeso quasi incantato davanti a una specie di danza di minuetta sembrano e sono ombre ancora vaghe di sé e dei loro simili ancora desiderose di schiorarsi di trovare contatto non ancora pronte a dimenticare il peccato di cui sono state di cui si sono già pentite ma poi sono stati puniti insomma e in fondo serene addirittura serene anche se ancora sollecite a trovare la via giusta il loro destino e anche la loro identità e dicono i versi che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa la qual mi fece rimirare sospeso lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e baciarsi una con una senza restare contente a breve festa così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'un con l'altra la formica forse ad espiarla via e l'or fortuna ecco quindi due schiere due file di anime che nel loro incedere tra le fiamme si sfregano uniscono rapidamente le loro rabbra come formiche certo e però poi si sciolgono come uccelli diretti in direzione opposta guinizelli spiegherà come è composta la formazione cioè la natura sessuale di formiche volatili che però assomigliano anche un po' ai serpenti ai corpi dei serpenti che si toccano e non si toccano schiere di anime che ricordano la possibilità del groviglio asseguono il consiglio dello scioglimento in un verso vanno gli adepti di Sodoma nell'altro verso gli emuri di Ermafrodito chi siano esattamente gli uni e gli altri quali esattamente siano state le loro pratiche sessuali quali esattamente le loro colpe sono definizioni rimandate da Dante alla letteratura sacra e profana con tutta l'ambidità e dato che la mia promessa era stata che in questa occasione avrei parlato esclusivamente delle immagini che accompagnano le narrazioni di confusione tra i sessi e dei sessi metterei solo in rilievo il fatto che al di là della precisazione delle pratiche di cui sarebbero state peccatrici peschiere Dante sollecita per esse due giudizi distinti l'una è composta da gente che si è fatta ridere dietro la citazione della canzonatura di un cesare chiamato Regina rende evidente a che tipo di degradazione e di denigrazione si rimandi l'altra da coloro che hanno perso la propria identità che hanno perso il controllo dei propri corpi fondendosi con altri corpi l'esplicito riferimento alla vicenda di Pasife e alla generazione del Minotauro equivale nella sostanza quella di Salmacide e Dermafrodito tanto più se si fa riferimento alla versione ovidiana come il peccato Dermafrodito evoca necessariamente quel che sembra contare per Dante più ancora di una definizione di ciò che ha causato pentimente condanna è poter dare una forma al modo di presentarsi di queste anime e la forma torna a dire è quella che i loro spostamenti atti producono in quel ridotto e stretto lembo di terra che Dante la sua guida Virgilio le schiere di Sodoma e di Pasife Ermatrodito si trovano ad una svolta a percorrere compressi tra la ripa alta e scoscesa e la fiamma che da essa viene balestrata in alto e in avanti un passaggio strettissimo e pericoloso che costringe a una vicinanza imprevista e insidiosa Dante per due volte rimarrà sospeso ammirando prima la nuova schiera che sopraggiunge e che mollemente va a incontrarsi con l'altra poi ammirando il corpo di Guinizelli che appartiene alla prima e lo guarderà di leguarsi di sparire nelle fiamme come per l'acqua e il pesce andando a fondo così guarderà Daniel a scondersi nel fuoco che gli affina al verso 148 ultimo Dante allora che fa di tutto anzi scrive la commedia per restituirsi una integrità e una identità autobiografica non fa nulla per dissimulare quanto sia stato attratto da groviglie giostre ma anche ci dice in fondo che sta imparando a dominare la giostra sta imparando a non scottarsi e sta imparando a non confondersi nelle penne di Tiresia e vabbè ho finito vi ringrazio dell'attenzione e in mancanza di una completa lettura del canto vi lascio in compagnia di un breve filmato testimonianza e prova di come a volte una danza possa essere allo stesso momento ripugnante e affascinante che ha Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.